ragazze buonasera benvenuti a questo nuovo video allora intanto mi posiziono in modo che la luce che riflette allo specchio non vi possa dare fastidio allora ragazze intanto vi ricordo sempre iscrivetevi al mio canale attivate la campanella in modo che quando io pubblico un video vi arriva la notifica mi raccomando ragazze allora questo di oggi è un video sono delle cose che ho comprato da zara e in altri negozi partiamo subito con delle cosine che ha comprato mia figlia ma che vi voglio fare vedere perché sono davvero un amore allora partiamo con questa borsetta guardate quanto è carina è in questo color cuoio è una borsetta piccolina quindi voi fate appunto la proporzione con me considerate che è una borsetta piccolina e naturalmente in similpelle così proprio a cartelletta questa l'ha presa lei da stradivarius ed è costata 19 euro e 90 c'era anche in nero veramente un amore io l'ho presa al volo per farvela vedere e poi sempre due cose che ha comprato mia figlia ma che vi faccio vedere perché sono troppo tenere allora questa è una camicia che ha preso la zara vedete c'è ancora il cartellino allora questa è costata 19,90 ed è una s e di mia figlia è questo bellissimo celeste polvere è una specie di raso ed è a differenza della mia che vi ho fatto vedere l'altra volta è una camicia corta quindi non è una camicia a casacca è molto corta e corta appunto per le ragazze da mettere con i jeans mia figlia mia figlia sta benissimo e poi sempre da zara mia figlia ha preso questo cardigan sempre in celeste sempre molto molto corto guardate che carino questo è costato sempre 19 euro e 95 questa invece è una m io trovo che questi colori adesso che viene la primavera sono spettacolari io ho preso una camicia appunto questo celeste è sempre da zara che vi ho fatto vedere l'altra volta però è più lunga più diciamo a signora mentre questa proprio è a ragazza e anche questo cardigan è delizioso e poi lei ha preso altre cose che però non ho fatto in tempo a raccogliere ha preso un jeans da da stradivarius sempre e poi ha preso da zara ha preso poi due body carinissimi a 10 euro sono con il collo girocollo così è completamente smanicati se volete appunto per le vostre figlie le vostre ragazze a 10 euro l'uno sono un amore e sono come tessuto sono in microfibra naturalmente ho preso qualche cosa pure io potevo uscire non comprare niente e quindi vi faccio vedere che cosa ho preso allora da zara ho preso questo capo spalla vi faccio vedere vedete come ecco qua forse è meglio allora è questo color beige chiarissimo avorio e poi nella parte finale è questo verde vediamo se riuscite a vederlo meglio è una specie di verde militare molto molto chiaro è il tessuto è un tessuto non tessuto è tipo nabuc ecco avete presente il nabuc ecco è una specie di nabuc questo io l'ho pagato è una l e io l'ho pagato 39,90 vedete quindi questo è un capo spalla che appena appunto miglioreranno le giornate a primavera fino a marcio aprile appunto si può mettere non mettiamo più i cappotti non mettiamo più le cose pesanti e passiamo diciamo a questi spolverini a questi soprabbiti leggeri primaverini quindi vi ricordo il prezzo 39,90 poi invece vi ricordate che l'altra volta vi ho detto che da combi ci sono degli sconti fortissimi fino al 70 per cento e vi dissi anche che mio marito aveva preso tre abiti a dei prezzi veramente convenientissimi e appunto vi consigliai per i vostri mariti per i vostri figli di farci un salto che cosa è successo che mio marito ci è andato di nuovo e ha preso ben tre paia di scarpe quindi ancora diciamo ci sono in vigore questi prezzi questi sconti quindi vi consiglio ancora di andarci ha preso tre paia di scarpe e poi ha preso due maglie sotto giacca appunto anziché mettere la camicia sono delle maglie che si possono mettere sotto i vestiti sotto gli abiti da uomo e naturalmente io che faccio non guardo e guardando guardando ho scovato questo vestitino guardate che carino allora il tessuto è tipo chiffon tipo chiffon quindi la manica piuttosto leggera velata mentre qua il vestito naturalmente ha una doppia è un doppio tessuto per non essere trasparente e il fondo è blu ve lo faccio vedere più da vicino il fondo è blu con questi disegni di un verdino molto 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 delicato e poi fatemi guardare ecco poi qua ci sono c'è questa fila di piccole borchie di borchette così con la vita piuttosto alta vedete la vita è piuttosto alta ed è non è lungo è sopra il ginocchio ad esempio oggi ho messo questo vestito che è della via rose questo è lungo quindi va sotto il ginocchio mentre questo è sopra il ginocchio e questo l'ho pagato questa è una 44 ragazze pensate una 44 e questo l'ho pagato vi faccio vedere faccio vedere da vicino allora intanto vi vi faccio vedere che è una 44 assurdo io che non porto 44 comunque è il prezzo allora era 59 e 99 non so se si riesce a vedere con il 60 per cento l'ho preso 23 e 99 quindi assolutamente un prezzo conveniente e quindi l'ho preso e niente quindi dico se volete se avete acquisti da fare specialmente per i vostri figli per i vostri mariti vi ripeto è il momento buono andate da combi pelle perché però la stanno facendo questi prezzi proprio stracciati tra l'altro a parte lo sconto del 60 del 70 poi c'è un'altra promozione che se prendete tre capi avrete un ulteriore sconto del 20 per cento poi sulla cifra finale quindi io vi consiglio veramente di andarci allora ragazze io a questo punto vi saluto e speriamo di vederci presto e mi raccomando sempre di mettermi i like e interagite fatemi sapere fatemi delle domande perché in questa maniera io capisco appunto che voi mi state guardando ringrazio sempre le ragazze e quelle affezionate che mi guardano sempre che mi scrivono sempre qualche commento appunto da farmi sentire la loro presenza e poi che dirvi io sto registrando oggi che venerdì 12 non so quando caricherò questo video e quindi tra due giorni e san valentino vi auguro di passare un san valentino con i vostri fidanzati con i vostri mariti anche con i vostri figli perché l'amore è come dire a 360 gradi non per forza deve essere il moroso il fidanzato o il marito anche i figli sono i nostri grandi amori e in sicilia si è saputo che domenica ci sarà la zona gialla quindi saremo un pochino più liberi di uscire di mangiare un boccone fuori appunto avremo questa opportunità di fare anche una passeggiata insomma di essere un pochino più liberi ok ragazzi allora io vi saluto spero che queste cose che io ho comprato vi siano piaciute e vi rinnovo sempre l'invito a iscrivervi e a mettere il pollice in su ciao ci vediamo presto